In caso di sintomi anche più banali e per sintomo banale intendo un rialzo febbrile, un po' di febbre o un po' di febbre, mi resto fermo in casa, cerco di stare il più possibile lontano da chi vive con me e chiamo immediatamente il medico. Non mi devo spostare, devo chiamare il medico perché il medico anche a distanza può capire se si tratta di una banale febbre, se ci sono altri sintomi come la tosse o come la mancanza di respiro perché nel caso in cui il medico decidesse che i sintomi sono importanti a quel punto si va in ospedale. Ma finché noi possiamo stare a casa e chiamare il medico dobbiamo restare fermi a casa.